Ma anche per una festa, grande esperienza la tua, un voto di assoluto prestigio dietro uno che mi sono su Giuliano Cavallo. Giuliano oggi è l'organizzazione, è vivo subito a parte, comunque sono contentissimo, ho fatto la gara insieme a Giuliano. Ci naviga tu? Sì, sono stati insieme per sette ore, otto ore, quindi sono staccato un pochino qua nella parte corribile e sono arrivato.